Bene Ministro, le ultime domande riguardano la valutazione degli studenti. Si parla tantissimo di invalsi, è un modo standardizzato che sappiamo anche oltre confine, non solo in Italia ha preso il sopravvento, moltissimi insegnanti sono contrari. Qual è la sua opinione? Io credo molto nella valutazione, secondo me la valutazione va fatta, è utile ma va fatta bene e quindi abbiamo già inviato da tempo un'interlocuzione con invalsi per capire esattamente, non solo con invalsi ma anche con l'Ocse a cui gli invalsi fa riferimento per alcune delle metodologie di valutazione dell'apprendimento, per capire esattamente come la valutazione non divenga un onere in se stesso ma sia davvero un'agevolazione per i docenti e per gli studenti. Perché se poi si deve studiare per passare il test di valutazione non abbiamo capito nulla del motivo per cui esistono le valutazioni. Le valutazioni devono essere fatte quasi in modo invisibile, fatte in modo non oneroso perché devono essere valutazioni di un percorso di apprendimento. Purtroppo negli anni, nella storia e in molti paesi la valutazione stessa è diventata una realtà che si autoalimenta. Quindi la valutazione va mantenuta ma va fatta in modo tale che sia di agevolazione al comprendere per esempio quali sono le carenze formative del nostro paese. Un elemento che manca, che io voglio rafforzare molto è cosa si fa una volta che si è valutato che esistono dei problemi. Perché molto spesso sta diventando quello che gli americani chiamano un problema di naming and shaming. Tu sei bravo e allora io da te questa scuola l'aiuto, quella scuola non è capace e quindi la punisco. Non è questo, la valutazione non serve per questo. Per esempio per me la valutazione serve per l'esatto opposto. Agevolare chi ha incrementi proporzionali migliori, cioè andare proprio nelle scuole che hanno più difficoltà e dire vediamo cosa si può fare per aiutarvi a diventare, ad essere più efficienti. E magari premiare proprio questo incremento di efficienza e non semplicemente premiare chi già fa bene la propria attività. Questo è un elemento quindi non è la valutazione soltanto ma anche cosa accade dopo la valutazione. Noi abbiamo due istituti, l'invalsi che è il termometro e poi ce n'è un altro che è l'indire che studia come migliorare le scuole. Io voglio far lavorare molto meglio queste due realtà per fare in modo che lì dove noi notiamo delle carenze si possa intervenire, non semplicemente dire a delle scuole non siete in grado di fare il vostro mestiere in modo efficace, arrangiatevi, ma dire esattamente l'opposto. Lavoriamo sulle carenze, cerchiamo di capire come mai in alcune parti d'Italia, in alcune aree magari periferiche o d'altro, possono esistere delle carenze specifiche. E come intervenire anche con finanziamenti maggiori proprio lì dove c'è più bisogno. E poi con questo concludo, questo tipo di valutazione può anche diventare, come io mi auguro, una valutazione di carattere volontario. Cioè quando la valutazione diventa una cosa utile, io sono sicuro che le scuole la faranno perché è utile, non perché la debbono fare. Io sono contrario all'obbligatorietà dei test invalsi perché rischiano di diventare un'ulteriore onere per le scuole. Io invece vorrei che diventassero uno strumento utile e fornito gratuitamente per cui ci fosse la fila fuori dalla porta per fargli i test invalsi. Sono contento di vedere che quest'anno oltre il 90% delle scuole li ha fatti, nonostante non fossero obbligatori. Forse il percorso è già cominciato. Bene, parlato di valutazione costruttiva, come si può rendere più costruttivo l'esame di Stato, la maturità? Lei ha detto che non vuole stravolgerla per rispetto anche degli studenti, però ci sono state delle modifiche che hanno fatto molto discutere, tra cui anche le famose tre buste all'orale. Cosa hai intenzione di fare su questo fronte? Allora, per me la questione dell'esame di Stato è importante. Come ho detto sin dall'inizio, non è detto che io sia favorevole o meno all'esame di Stato così come oggi. Però non è neanche possibile che ogni ministro che arriva cambia l'esame di Stato, perché rischia di essere. Ha un elemento di narcisismo, per cui un ministro che non riesce a fare altro si scaglia con l'esame di Stato, tanto è facile, basta un decreto ministeriale e non devi discutere con nessun altro. No, io dico diamo continuità agli studenti, evitiamo quello che è accaduto l'anno scorso, per cui a marzo, aprile, ancora ricevevo lettere e email, nonostante mi occuparsi di università, da parte di tanti studenti che chiedevano ma come sarà l'esame di Stato? Noi siamo a due mesi dall'esame e non lo sappiamo. Noi dobbiamo dare loro invece un orizzonte temporale per prepararsi e sapere che a giugno verranno valutati sulla base di questi meccanismi. Ora, sulla questione delle buste, che tra l'altro voglio ricordare a tutti è un elemento formale, più che sostanziale, stiamo valutando esattamente che tipo di intervento fare. posso capire benissimo la necessità delle buste per dare anche un'apparenza di meritocrazia e trasparenza, però è pur vero che vorrei evitare che ore e ore si perdessero soltanto per cercare di distribuire quesiti ed altro, perché molto spesso le commissioni invece debbono dedicarsi il più tempo possibile alla valutazione, all'esame degli studenti e non semplicemente fare delle lotterie che richiedono tempo e risorse. Quindi stiamo valutando esattamente in questi giorni quelli che sono i pro e i contra di questo tipo di azione e nelle prossime settimane saprete esattamente se le buste resteranno o se verranno sostituite e quindi si tornerà a un sistema di quesiti come era prima. Grazie a tutti.